Alano Nero, Cane Corso, Doberman Ok, proseguiamo con l'aggruppamento numero due, Schnauzer medio nero, Bovaro del Bernese I primi due raggruppamenti e la giudice ne sceglie quello che ritiene più opportuno Uno, due, in base alle sue valutazioni zootecniche Ok, rimangono con noi il West Gorgie Pembroke, l'Ano Nero Andiamo con altri due raggruppamenti, visto l'esigo numero dei partecipanti American Staffordshire Terrier Siberian Husky Samo Iedo Wolf Spitz Spitz Nano Spitz Siamo nella categoria Juniors, quindi Cuccioloni da 6 a 9 mesi con qualifica molto promettente Sceglie l'American Staffordshire e il Wolf Spitz Grazie ai non finalisti, proseguiamo a fare entrare altri due raggruppamenti Dalmata Bigal Vichla Bracco di Weimar Bracco di Weimar Facciamo entrare i restanti raggruppamenti, non solo numero esigo di soggetti, cominciamo con Labrador Retriever, Golden Retriever, Bichon Havanet, Bolognese, Carlino, Papillon, Chihuahua Corto, Chihuahua a pelo lungo e Salucchi Diamo il tempo perché Salucchi ha una certa falcata, non vorremmo far fare un frontale con retro del Chihuahua Cortesemente i giovani sono attesi nel pre-ring, tutti i cani giovani da 9 a 18 mesi qualificati eccellenti e risultanti migliori della loro razza La giudice Salinas ha così fatto una pre-selezione, rimane il Golden Retriever, il Bichon Havanet e il Salucchi Ringraziamo ai non finalisti che possono uscire dalla parte opposta e ricomponiamo una linea di partenza con i cani selezionati dalla nostra giudice Luisa Salinas Chiede un giro tutti insieme Io rinnovo l'invito per i cani giovani nel pre-ring, la categoria da 9 a 18 mesi attesa nel pre-ring La giudice Luisa Salinas ha deciso il risponso, scoppiamo i vincitori della categoria Juniors da 6 a 9 mesi La giudice chiede un ringraziamento, terzo posto per il Bracco di Weimar, categoria Juniors Secondo posto per il Bichon Havanet e il vincitore della categoria Juniors è il Bigal Premia il Presidente del Consiglio Comunale di Genova che invitiamo qui al podio Alessio Piano appunto, il consigliere del Comune di Genova Intanto i giovani sono pronti e scapitanti nel pre-ring Il giudice che dovrà valutare li sta già valutando all'interno del pre-ring Ok, nel mentre le foto di Rito c'è da spostare un'auto La targa è Bologna Y537 NV Comunque Bologna Y537 Napoli Verona Cortesemente spostare velocemente quest'auto